Bella YQ, bentornati nel mio canale, siamo qui oggi con la reaction più, forse, più importante dell'anno Il Napoli gioca il primo trofeo della stagione Speriamo bene che vinciamo perché, secondo me, andremo ai calci di Rio Ragazzi, noi ci vediamo con il match Ma no, che ha parato, che ha parato Mannaggia No, no, no Mamma mia, mamma mia, brivido della Yume Ragazzi, un primo tempo Privo di azioni importanti La Juve faceva possesso palla e il Napoli difendeva e poi accadeva il contrario Solo c'è stato il tiro di Ronaldo che sta andando nell'incrocio dei pali E il colpo di testa di Lozzano che ha fatto una paratona ai Cessni Queste sono state le due occasioni più importanti Solo il Napoli, poco alla fine, è caduto di mentalità Quindi dovremmo fare meglio nel secondo tempo Noi ci vediamo col secondo tempo No, no Sì, Ospina Sì, Ospina Mamma mia L'ho vista dentro Ma che è sto buco Mamma mia ragazzi, mamma mia Ragazzi, diamocelo a svegliata No Ma questo segna solo contro di noi Ronaldo Da solo Oh Rigore Eh, è rigore È rigore È rigore Bar Ti prego Fai che canti ogni rigore Calcio di Igor Calcio Calma 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 Dai Lore Potento L'ore L'ore Dai Ma Ma Mamma mia Che ha preso Che ha preso Ma io non lo so E va Bravi 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 Dai a farmi Solo Vincere Potevano vincere Scandaloso Ci becchiamo Un prossimo video Bella ragazzi